Covid, medici di famiglia, situazione diversa da marzo, abbiamo DP e protocolli, ancora criticità su tempi tamponi e quarantena. Treni frontalieri, i borghi sono riusciti a farne inserire uno supplementare, la regione abbiamo chiesto a BLS di comunicarci cosa riesce a fare. L'emergenza sanitaria a cui isci la crisi del commercio locale, la chiusura dei piccoli negozi si somma alla crisi dei marchi internazionali. Appello di 23 sindaci e amministratori del VCO affinché si torni a discutere del progetto del nuovo ospedale del Verbano Cusio-Ossola. Bracognere Domese denunciato in Valle Bognanco dalla polizia provinciale, allertata da persone che avevano udito lo sparo. Nuova puntata di Baschettando condotta da Camilla Vescovi, la figlia del Grande Cecco con Alessandro Procacci e Lorenzo Neri. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie. In apertura di giornale il consueto aggiornamento sulla pandemia con gli ultimi dati arrivati dalla regione Piemonte. Nel VCO 57 nuovi positivi e 10 nuovi guariti. Nel Novarese si segnalano 7 nuovi decessi covid positivi, 169 nuovi contagi e 29 guariti. A livello regionale i nuovi contagi sono ben 3.169 con 12.700 tamponi, il 41% asintomatici, 29 decessi registrati nelle ultime 24 ore. Crescono di 17 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in totale 213 a livello piemontese, più 271 i ricoverati nei reparti ordinari, in totale 3.379 isolamento domiciliare per oltre 35.000 persone. E ieri il punto sui nostri ospedali alla luce di questi dati. Oggi puntiamo invece i riflettori sul lavoro dei medici di famiglia che seguono presso il loro domicilio i pazienti covid positivi o in attesa di esito. Medici di famiglia subissati di telefonate dà ciascuno la massima disponibilità e motivazione a far fronte a questa nuova ondata emergenziale. Ma la situazione rispetto allo scorso marzo è differente. Lo precisa il dottor Antonio Lillo, delegato dai colleghi a rappresentarli nell'unità di gestione covid dell'Asla. Già perché oggi i medici di medicina generale hanno l'adeguata dotazione di DPI, hanno un protocollo terapeutico redatto dal DIRMEI per la gestione del paziente covid a casa, hanno un percorso di presa in carico del paziente che coinvolge loro le usca e i pediatri. Ma come si snoda questo percorso? Il medico viene contattato dal paziente con sospetto covid, effettua il triage telefonico, partono la segnalazione al portale regionale, la presa in carico da parte del servizio di igiene dell'Asla, l'isolamento fiduciario e il tampone. In caso di positività il medico di medicina generale effettua un monitoraggio della condizione clinica del paziente a domicilio in base a parametri oggettivi e condivisi. In caso di sintomi lievi e nessuna condizione di rischio continua l'osservazione a distanza. Qualora le condizioni cliniche del paziente lo richiedano, invece, può il medico stesso effettuare una visita domiciliare oppure chiedere l'intervento delle usca. In caso di parametri ulteriormente preoccupanti si dispone il ricovero. Siamo in attesa degli accordi integrativi regionali che codifichino l'accordo nazionale per effettuare i tamponi antigenici rapidi, aggiunge Lillo. I medici di medicina generale danno la loro disponibilità per effettuare l'esame sui contatti stretti asintomatici covid positivi al termine del decimo giorno di isolamento per liberare il prima possibile il paziente. Gli accordi codificheranno questo percorso in luoghi dedicati. Restano ancora alcune criticità, in particolare rispetto alla necessità di velocizzare l'esito del tampone molecolare e anche per una maggiore immediatezza della disposizione della quarantena, a tutela anche economica del paziente e del medico. Qui la lungaggine è burocratica legata ai certificati IMS non emittibili prima della disposizione SISP. In caso di sospetti, comunque, la prima indicazione resta sempre quella di contattare telefonicamente il proprio medico di famiglia. Ed ora torniamo a parlare dei treni frontalieri tra Domodossola e Brigadop. Troppo affollati, i diretti interessati lo avevano segnalato anche ai nostri microfoni. Disparità di normativa tra Piemonte e Svizzera. Nella nostra regione capienza massimo al 50%, nella Confederazione al 100%. Si lavora per risolvere il problema. Ho risentito BLS che sta attendendo una risposta dall'Agenzia regionale per l'aumento del numero dei treni frontalieri. Sono riuscito a farne inserire uno supplementare alla mattina in occasione del cambio orario. Sto pressando perché venga fatto altrettanto anche per il rientro alla sera. La notizia arriva dall'onorevole PD Enrico Borghi. Il problema è noto e quello dei treni sovraffollati tra Lossola e il Canton Vallese, con il mancato rispetto della distanza anticontagio per i lavoratori che quotidianamente si recano oltre confine. La denuncia da parte dei diretti interessati anche ai nostri microfoni. Sulla questione nei giorni scorsi, Antonio Locatelli del coordinamento frontalieri ha chiesto l'intervento del prefetto del VCO, interessato il presidente Lincio e l'onorevole Borghi. Quest'ultimo riferisce di aver già sabato parlato con il prefetto e con la società. Ha presentato tre interpellanze ai ministeri degli esteri, dei trasporti e della salute, ma dal punto di vista gestionale conclude la concessione regionale. Dalla regione l'assessore competente Marco Gabusi spiega che l'Agenzia per la mobilità ha chiesto a BLS di mettere più treni, ma quest'ultimo ha sottolineato difficoltà in questo senso per mancanza di materiale e personale, anche per la quarantena Covid. Abbiamo detto di comunicare a tutti, incluso il prefetto, cosa riesce a fare, almeno nel tratto Brigaiselle, perché poi possiamo aggiungere un servizio autobus a ferma Gabusi, sottolineando uno dei problemi fondamentali. In Svizzera non hanno limitazioni di carico, come da noi, dove i numeri sono dimezzati. I treni elvetici viaggiano quindi con capacità al 100%. Il capogruppo leghista Alberto Preioni aggiunge, la situazione è in evoluzione, la regione è impegnata per l'aumento dei convogli con il relativo impiego di fondi, occorre trovare una quadra e ci stiamo lavorando. Se evitiamo l'innesco della polemica politica, arriveremo a una soluzione. I convogli tra Domodossola e Briga vengono utilizzati quotidianamente da circa 700 del migliaio di lavoratori ossolani impiegati in Canton Vallese. La scorsa primavera, in emergenza Covid, BBLS aveva aggiunto due treni in più, uno al mattino e uno alla sera, negli orari di punta, 5.30 e 18. Chiediamo, dice Locatelli, venga fatto lo stesso e che venga aggiunto un blocco di quattro carrozze in più ai treni. Ed ora parliamo di attività commerciali pesantemente colpite dalla pandemia. Soffrono i piccoli negozi, ma anche le grandi catene internazionali con inevitabili risvolti occupazionali anche sui nostri territori. L'emergenza sanitaria acuisce la crisi del commercio locale. Lo dicono i numeri. Ai piccoli negozi costretti alla chiusura in tempo di pandemia, nelle ultime settimane, si sono aggiunte crisi di marchi internazionali nel campo dell'abbigliamento. In autunno hanno chiuso i battenti in Osso, la Bata, nel settore delle calzature e Camaièo nell'abbigliamento. Ora è area di crisi per il gruppo Zeta, negozio di proprietà dei francesi Kiddy Kids, che nelle scorse settimane hanno presentato in patria richiesta di amministrazione straordinaria. Per questo motivo il negozio, abbigliamento per bambini, situato sul territorio di Crevola d'Ossola, oggi è rimasto chiuso. Uno sciopero di otto ore, proclamato da Filcams contro l'atteggiamento della proprietà che non ha condiviso con i rappresentanti dei lavoratori le difficoltà finanziarie che il gruppo francese sta attraversando. In forza il futuro occupazionale di 600 persone in Italia, 50 nel Piemonte, 3 in Ossola. A livello locale si tratta di numeri piccoli, ma che vanno a sommarsi ad altre situazioni di crisi. Di fatto stiamo assistendo a un impoverimento del mercato del lavoro, fanno notare dal sindacato. Per questo motivo Michele Piffero, della segreteria Filcams CGL Novara VCO, annuncia un monito alle istituzioni locali in testa alla regione Piemonte. Non è più accettabile, dice il sindacalista, che si continuino a verificare casi di multinazionali che pensano di poter venire e andare a proprio piacimento, lasciando intere famiglie nella disperazione. E di pandemia, situazioni sanitarie e conseguenze sull'economia si è parlato anche oggi a Verbania nella conferenza dei capigruppo convocata in remoto. L'appuntamento è stato rinnovato a settimana prossima, l'intenzione è di aggiornarsi appunto settimanalmente. Conferenza dei capigruppo convocata online oggi a Verbania. Al centro dell'incontro, la situazione dell'emergenza sanitaria ed economica in città con il sindaco Silvia Marchionini, che ha ragguagliato i rappresentanti dei gruppi consigliari. Si è parlato anche di provvedimenti per sostenere le imprese cittadine del fondo Verbania Solidale. L'appuntamento è stato rinnovato a settimana prossima, l'intenzione è di aggiornarsi settimanalmente. Mattia Tacchini, di Prima Verbania, ha criticato la gestione della Tari, che è arrivata ora con tre rate e con cadenza mensile da qui fino a dicembre. Non si è ancora parlato della sostituzione del Presidente del Consiglio Comunale, Gian Domenico Albertella, che ha recentemente rassegnato le proprie dimissioni. Per quanto riguarda l'Assemblea di Palazzo Flaim, dovrà essere convocata per la fine del mese. L'intenzione dell'amministrazione comunale è di approvare anche quest'anno il bilancio entro la fine di dicembre. Sarà complesso, quindi è forse non possibile, convocare il Consiglio in videoconferenza, sia per la complessità del dibattito sul bilancio, che sarebbe comunque difficile da gestire, sia perché l'elezione del Presidente si deve tenere a scrutinio segreto e le modalità di voto online non consentirebbero l'anonimato. Una decisione in proposito sarà comunque presa martedì prossimo. E questa mattina, sul sito che gestisce le richieste per ottenere il bonus mobilità, Verbagna non era tra i comuni presenti, pur avendone diritto. Un errore tecnico risolto un paio d'ore più tardi, grazie al veloce intervento dell'On. Borghi e del Sindaco Silvia Marchionini, che hanno sollecitato il superamento del problema, contattando i vertici della società Sogei a Roma, che gestisce il sito. Ricordiamo che il buono mobilità voluto dal Governo ha previsto un bonus del valore massimo di 500 euro, che copre fino al 60% della spesa effettuata per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita e non per i capoluoghi di provincia. Ed ora occorre tornare a parlare del nuovo ospedale del VCO nelle sedi competenti. L'appello è stato sottoscritto da 23 amministratori del territorio che chiedono la convocazione dell'Assemblea dei Sindaci. Appello di 23 sindaci del VCO affinché si torni a discutere del progetto del nuovo ospedale del Verbano Cusiossola. Con una lettera indirizzata al Presidente della provincia Arturo Lincio, al Presidente della rappresentanza Gianni Morandi e all'Assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, gli amministratori in maniera trasversale chiedono la convocazione dell'Assemblea dei Sindaci. Chiediamo, dicono, si torni a discutere nelle sedi competenti del tema. Lamentano come da un anno a questa parte l'argomento sia scomparso dal dibattito istituzionale. Il documento è firmato da sindaci e consiglieri comunali del Verbano Ecusio a cui si è aggiunto anche il sindaco di Ornavasso, Filippo Cigala Fulgosi. Ci sono amministratori di centrosinistra ma anche di centrodestra, tutti accomunati da un unico pensiero, contrari al progetto dell'ospedale nuovo a Domodossola. E del tutto evidente, scrivono, che non è nell'area baricentrica. Nella lettera si citano le parole del capogruppo della Lega in Regione, Alberto Preioni, che di recente avrebbe indicato Fondo Toce quale area baricentrica del VCO. Da Verbagna a Omenia, passando per Gravellona Toce, Casale Cortecerro, Quarnasopra, Madonna del Sasso, Massiola e Ornavasso, è forte la richiesta che la collocazione del futuro ospedale avvenga nell'interesse di tutto il territorio e in seno alle istituzioni che lo rappresentano. Ed ora il punto sul cantiere per la sistemazione della Statale 33 ad Arona. La riapertura del tratto resta fissata tra un mese circa. Come potete vedere dalle immagini, sono stati avviati e proseguono i lavori per la realizzazione del consolidamento del lato verso monte della strada statale 33 del Sempione ad Arona. Il progetto prevede, una volta terminata questa prima opera, che possa riaprire la viabilità e attivare il senso unico alternato, come assicurato dal sindaco Federico Monti, confermato anche dai responsabili Annas. La circolazione, seppur solo sul lato monte della statale, dovrebbe normalizzarsi intorno al 4 dicembre. Monti ha aggiunto, non è stato facile arrivare a questo risultato. L'immediato avvio del cantiere infondano fiducia sulla possibilità di riapertura della statale al chilometro 65 più 500, dopo il cedimento che si è verificato il 29 settembre scorso. Come avviene solitamente quando si apre un luogo di lavoro, i primi a controllare quotidianamente sono i pensionati, in particolare quelli di Arona, che allungano la passeggiata e da lungo lago si portano sin sotto la rocca al Borromeo per verificare che tutto proceda speditamente e per il verso giusto. Sul margine a lago della corsia su della strada vengono inseriti pali a distanza di 50 centimetri uno dall'altro, meglio si chiamano micropali, che saranno indispensabili per contenere il terreno ed evitare che ceda verso il lago maggiore, anche in questa corsia. Hanno assicurato dai vertici regionali dell'Annas il resto dell'intervento per la cariggiata a lago verrà realizzato dalla spiaggia sottostante. Se i tempi saranno rispettati, Covid-19 e condizionamento permettendo, gli automobilisti o i residenti della fascia lacustre nord della città che devono percorrere una decina di chilometri in collina per raggiungere il centro tireranno un sospiro di sollievo. Lo stesso per i residenti e le attività di tutti i comuni che vanno da Maina verso Lesa, Belgerate e Sino-Stresa. Il dirottare il traffico su Alto Vergante e sull'autostrada a 26 dietro a fuori ha fatto registrare un notevole calo di passaggio e di conseguenza la di clientela in tutti i paesi del Basso Lago. L'onorevole Alberto Gusmeroli, vice sindaco di Arona, ha incontrato il ministro dei Trasporti Paola De Micheli durante una riunione per danni da maltempo in tutto il Piemonte. Ha fatto presente la richiesta di togliere il pedaggio sull'autostrada tra i caselli di Arona e Maina sino a che non saranno ripristinate le condizioni di viabilità sulla statale 33 del Sempione a causa del cedimento. Il ministro si è detto d'accordo e ha affermato che riprenderà la lettera di richiesta e la porterà in discussione alla riunione di governo aggiunto in particolare per i residenti che sono i più penalizzati. Bracconiere Domese denunciato in Valle Bognanco dalla polizia provinciale allertata da alcune persone che avevano udito lo sparo. Cacciava illegalmente di notte Domese denunciato dalla polizia provinciale. È successo in Valle Bognanco dove la polizia provinciale ha intercettato un'auto con a bordo due persone. Siamo stati avvisati da persone che hanno udito lo sparo conoscendo bene la zona sapevamo che c'era una sola via d'uscita Lì li abbiamo aspettati, spiega il comandante Riccardo Maccagno. Una delle due persone è risultata subito estranea al fatto non era pratica di caccia ed è in sostanza diventata testimone di quanto accaduto. Sull'auto ha anche una carabina munita di ottica di precisione munizioni ed un bossolo riconducibile allo sparo udito poco prima, andato a vuoto. La preda era un cervo o un capriolo che sarebbe riuscito a scappare. Anche il successivo sopralluogo della polizia provinciale con i cani per individuare eventuali tracce di sangue o animali feriti non ha dato esito. Per il bracconiere è stata anche chiesta la sospensione del permesso di caccia di cui è in possesso. Un'azione illecita, priva di etica venatoria dice la polizia provinciale. Infatti i cacciatori hanno ampie possibilità di prelevare capi in modo regolare e cacciare un gulato in orari notturni non dà una buona immagine al mondo venatorio. Siamo sempre impegnati nel controllo del rispetto delle regole dell'attività di caccia conclude Maccagno. Nella gran parte dei casi i cacciatori si comportano bene ci sono poi casi isolati i furbetti che cercano espedienti magari perché non molto abili in questa attività ed hanno bisogno della complicità della notte quando gli animali sono più vulnerabili. Mattoni nella campana del non riciclabile la scoperta fatta questa mattina a Stresa durante le operazioni di svuotamento nell'area ecologica di Piazzale Sant'Ambrogio oltre al materiale edile è saltato fuori anche un ventilatore. Il sindaco Marcella Sereverino ricorda che per il conferimento degli ingombranti va utilizzata l'area ecologica di Via Selvalunga aperta martedì, mercoledì e sabato dalle 8.30 alle 12.30. Cerchiamo di avere tutti più senso civico e rispetto del lavoro altrui invita la prima cittadina. In apertura di pagina sportiva ai motori con un bilancio del rally del Rubinetto che si è corso lo scorso fine settimana con partenza e arrivo a San Maurizio d'Opaglio. Che il Rubinetto Grondimiele è ormai quasi un luogo comune che martella agli appassionati. Fatto sta che Simone Miele pilotissimo varesino navigato da Mario Cerutti ha vinto nello scorso weekend il rally del Rubinetto organizzato per Newt Urbomarca per il quarto anno consecutivo. Come un giocatore di poker Simone da Olgiate Olona si è dichiarato servito ed ha calato quattro assi in maniera importante trasformando la gara kusiana-valsesiana in una specie di salotto personale. Una Citroën DS3 WRC perfetta 5 speciali vinte su 6 in programma ed una vittoria mai in discussione. La coppia Luca Buttarelli Walter Pasini ha chiuso al secondo posto con la soddisfazione di aver portato la loro squada Fabia Evo a vincere l'unica PS se non dominata Daniele. Sul podio anche il sempre competitivo Corrado Pinzano con Roberta Passone sempre con la Skoda Fabia Evo. Entrambe le coppie non hanno potuto nulla contro i vincitori che va detto erano in gara con una vettura WRC e le loro Skoda di classe R5 pur velocissime non hanno ovviamente il passo di una vettura della classe Regina. Sfortunato il valdostano Elvis Centre che mentre era in piena bagarre per il podio con la Skoda Fabia R5 ha picchiato ritirandosi nella PS4 del Motterone. Quarto ha chiuso Davide Caffoni con Max Minazzi su una difficile Volkswagen Polo R5 per loro un rally in crescita senza però mai essere stati in corsa per il successo finale un chiuso davanti all'altra Polo del borgo sesiano Ivan Carmellino. Hanno chiuso nella top 10 Peruccio, Marasso, lo svizzero Caldini, Tribuzio e il padre del vincitore Mauro Miele. Nella categoria Super 1600 successo per l'armeniese Federico Romagnoli dopo un bel testa a testa con un grande aragno mentre terzo conclude Rescovi nella classe R2B vince Riccardo Tondina davanti a Fabrizio Margaroli e Giordano. In occasione delle premiazioni è stata anche consegnata la prima navigatrice classificata della corsa Roberta Passone la targa in ricordo di Lucia Francioli per tanti anni cronometrista sulle strade dei nostri rally e moglie del nostro collaboratore cameraman Roberto Terrazzi. Tempo ora di rally Valle Ossolane ad oggi confermato per i giorni 14 e 15 novembre almeno sino nuovo di PCM. Ed ora il classico appuntamento del martedì con Baschettando in onda alle 20 e 35 ancora in replica domani mercoledì alle 13 e alle 17 e 30. Le anticipazioni con Camilla Vescovi. Buonasera a tutti, io sono Camilla Vescovi oggi quarta puntata di Baschettando andremo a toccare temi abbastanza importanti soprattutto per il periodo che stiamo passando parleremo appunto di situazione Covid nella squadra Paffoni Fulgo-Romegna aggiornamenti sulla Supercoppa e quella che sarà la Final Eight ne parleremo con i nostri ospiti. Io mi chiamo Alessandro Procacci ho 26 anni, gioco nella Fulgor Basketomenia nel ruolo di premaker. Io invece sono Lorenzo Neri ho 19 anni e anch'io gioco nella Paffoni Fulgoromenia e sono una guardia. Vi aspettiamo stasera su Baschettando 20 e 35. Vi aspettiamo. Siamo in chiusura con le riflessioni del martedì di Don Renato Sacco parroco di Cesare. Sì, stiamo vivendo giorni strani di preoccupazione, la salute, il Covid gli ospedali, i posti letto, si percepisce. Io sono stato all'ospedale di Omenia questa mattina per un esame e si percepisce questo clima di tensione di preoccupazione più che legittimo la salute è importante e qualcuno appunto preoccupato anche per come potrà vivere per il proprio futuro per come stare vicino alle persone ammalate tutte preoccupazioni che viviamo in questi giorni legate anche alle notizie della strage a Nizza della strage a Vienna innocenti che vengono uccisi cosa dire? Di fronte a una strage c'è solo il dolore un po' di rabbia ma anche la voglia di condividere questa sofferenza insieme ad altre stragi pensiamo nel nord Kivu in Africa o in Etiopia o a Kabul dove ieri sono stati uccisi 25 studenti tutti i musulmani e la settimana scorsa più o meno un numero simile di studenti uccisi a volte alcune stragi vengono dimenticate altre si ricordano di più tutto questo ci deve aiutare a mettere il cuore dalla parte delle vittime sempre quando c'è una strage dobbiamo essere dalla parte delle vittime e mai dalla parte di chi le progetta per questo leggiamo così anche l'anniversario di domani il 4 novembre qualcuno dice festa è finita la prima guerra mondiale la grande guerra il Papa di allora Papa Benedetto XV il primo agosto 1917 disse questa guerra un'inutile strage ed è allora un'altra strage che vogliamo ricordare 650.000 morti solo gli italiani più tutti gli altri ecco allora di fronte alle stragi chiamiamole col proprio nome e stiamo sempre dalla parte delle vittime e sapendo che la violenza non porta mai da nessuna parte né quella del terrorismo né quella della guerra ci vediamo come sempre venerdì con non di solo pane e con Don Renato chiudiamo per gli aggiornamenti vcioazzurativ.it e le nostre pagine social grazie per essere stati in nostra compagnia buon proseguimento con i nostri programmi grazie a tutti grazie a tutti